ragazzi non prendiamo tempo questa canzone ha vinto al sondaggio me l'ha suggerita la mia amica americana del massachusetts 3,2,1 go la question is not when is going to stop but who is going to stop oh really interesting start here oh yeah loving it after 40 seconds real rock'n'roll riffs I love it ragazzi che partenza e che riff proprio rock'n'roll oh yeah guys oh my god oh my god oh my lord oh my lord guys after 1 minute 45 my friends the refrain is fantastic here and the riffs are increasing the power loud powerful riffs there in the refrain and girl why you are misleading about your facebook profile I need to add you however however this is fantastic so far and this is the rock'n'roll I would love to listen more times in my channel and in my life pure genuine music pure genuine music without the need to sing loud in a weird way you know ragazzi spettacolo ritornello ancora più potente oh my god 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 Oh my god. Oh my god, yeah, here at the minute 250, interesting, interesting, interesting as hell here at the minute 250, really, this bridge, this third part of the song with wild deep bass and a one note guitar solo. One note guitar solo and amazing bass and nice drum group. Ragazzi, qui a minute 250, grandissimo, questo basso penetrante con la solo di guitarra con una sola nota e il group di batteria molto interessante. I will stand ready to begin 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 Show me how to love Show me how to love Show me how to love Guys, this is supercool! In realtà ho piaciuto questa canzone anche più che la prima che ti chiesti di reagire Ma la prima canzone ho già conosciuto Headphones out for a bit, per favore La prima canzone ho già conosciuto Questa è totalmente nuova per me E è un banger, ragazzi! Oh mio Dio! This is a quite good frame At the minute 340 snaring in this drum There, hard In a hoarse run Very, very incredible Before the last repeated refrain Excellent! Excellent! You have good taste because Of course you purchase also My own band Record like 450 other people You are Excellent girl! You are delightful! A kiss from me to you And this was excellent And we react, of course More to them Ragazzi! Mi sono divertito Al minuto 340 Poi c'è questa rullata Balabalabala Senza pietà Che ti guida all'ultimo ritornello ripetuto per l'ultima volta Eccellente ragazzi! Eccellente! Non conoscevo la prima canzone che ho reagito Mi è piaciuta tanto La conoscevo già Questa mi è piaciuta addirittura di più Che dire! Reagirò ancora Grazie a Elena del suggerimento Alla prossima ragazzi! See you next time Guys! Punk rock head With my sick of it all t-shirt It's telling you See you next time!